partiti allo steccato Age viene presto superata all'esterno da Magia Nera che si trascina all'esterno Bob Rock quindi ancora Age con a ridosso Ben Narecci ed in coda Blue Echel Kenny Cavalli ora all'imbocco della curva con Magia Nera che si mantiene in vantaggio allo steccato nei confronti di Age per linee interne con a largo Ben Narecci e Bob Rock quindi in coda Blue Echel Kenny Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo con i concorrenti che si spostano verso il centro della pista capeggiati sempre da Magia Nera che ha all'interno Age e nella scia Ben Narecci segue Blue Echel Kenny con a largo di tutti Bob Rock sta allungando Magia Nera sotto la pressione interna di Age mentre a largo si propone ora deciso Ben Narecci più indietro a largo di tutti Blue Echel Kenny Magia Nera è ora attaccata a fondo da Ben Narecci mentre Blue Echel Kenny sta allungando all'esterno di tutti e Dislancio sta prendendo la meglio Blue Echel Kenny all'esterno è passato nel tratto finale e si impone davanti a Magia Nera quindi Ben Narecci al quarto posto Age vediamo se ora la regia ci ripropone questa bella affermazione di George Perovic in sella a Blue Echel Kenny che col numero uno dello schieramento e ottimo slancio finale ha preso chiaramente il sopravvento negli ultimi 200 metri e si è imposto mentre Magia Nera ha retto bene per il posto d'onore l'attacco di Ben Narecci quindi il probabile ufficioso arrivo della prima di Napoli è 1-4-5 e ho haveto bene stecato